Ciao, sono Giovanna Mazzon, Vocal Essence Coach e fondatrice del metodo Vocal Essence. Se non sai cosa è Vocal Essence, ti lascio il link in descrizione in modo che tu possa andare a vedere i nostri corsi individuali o collettivi online. Oggi ti propongo il primo esercizio di tre che riguardano la voce parlata per cercare di non andare ad affaticare la tua voce durante la giornata, proprio in funzione del tuo allenamento vocale cantato. Quindi andiamo a vedere il primo esercizio che ti propongo che è la mobilitazione dei muscoli facciali. Semplicissimo, andiamo a lavorare con le labbra, mettiamolo in posizione della U, in questo modo, e rilassiamo. Lo proviamo a fare dieci volte. 3, 4, 5, tenete il collo rilassato, 7, 8, 9, 10. Cercate di farlo senza coinvolgere le sopracciglia, senza coinvolgere la rigidità delle spalle, senza andare a lavorare sugli occhi, solo le labbra. E ora cerchiamo di aggiungere, oltre la U, attraverso questo movimento, che sarà la prima vocale, un'altra vocale. Quindi, U-A, per esempio, dove la A viene proprio per un rilascio delle nostre labbra. Proviamo. U-A, U-A, ovviamente con una tonalità di voce che vi permetta di tenere la voce rilassata e comoda. Cercate una nota che vi permetta di non scendere o salire con la laringe, per esempio. Un altro importante tutor che potreste avere, mettere le mani senza esagerare, non premete, semplicemente per sentire la posizione della vostra laringe, che non si deve alzare né abbassare, ma deve rimanere morbida e rilassata, in una posizione neutra. Quindi, U-A, dieci volte, U-A, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Bravissimi. Ora continuiamo con la O, stesso esercizio, dieci volte. U-A, U-A, cercate di ammorbidire la mandibola, andate avanti, sei, sette, otto, nove, U-A, dieci. Benissimo, proviamo con la E, U-E, U-E. Quando mollate e non crollate nella posizione, rimanete su, quattro, cinque, sei, sette, U-E, nove e dieci. Proviamo con l'ultima vocale, U-I, cerchiamo di non crollare appunto con il corpo quando andiamo nella seconda vocale, ma di rilassare solo le labbra. Pronti? Via! U-U-I, due, tre, quattro, cinque, U-U-I, sette, otto, nove, ultimo, U-U-I. Ottimo! Dovreste sentire la voce che si è già ammorbidita e che si è anche spostata come sensazione e percezione nella parte delle labbra, soprattutto nella parte alta del labbro superiore e questa voce si è ammorbidita di più. Andiamo subito a vedere di che cosa si tratta. Lavoriamo ora sulla sensazione della vibrazione del naso. Abbiamo già scaldato i muscoli delle labbra, ma ora, lasciando liberi i muscoli del viso, andiamo a tappare una narice, inspiriamo da una narice sola ed espirando facciamo una N che deve vibrare da questo punto alla nostra narice di arrivo. Mi raccomando, non andiamo a sentire nessun movimento nella parte interna. Come posso capire se sto facendo un esercizio corretto o meno? Ci sono varie modalità. Uno, sento che la vibrazione della narice è totale. Due, non sento sforzo. Tre, percepisco che la mia laringe non si sposta né in su né in giù. Quindi andiamo a fare questi suoni con questa N continua, lunga tanto quanto un'espirazione. Ne facciamo una decina, non di più. E poi, se vogliamo, possiamo farla anche su dei glissati che salgono. Su una nota morbida, comoda, sempre vicina al vostro parlato, che non sia troppo bassa e che non sia troppo alta. Quindi, tappiamo la narice, inspiriamo dalla narice stessa ed espirando. Sentite che la nota può essere grave, ma possiamo spostarci, provare a vedere se la nota si colora di più, spostandoci un po' più in alto, un po' più in basso, se mi rilasso di più. Quindi, ancora, inspiro. Lasciate che il respiro sia morbido, che il respiro sia fluido, che la narice vibri, che il respiro si colori di suono solo all'interno della parete del mio naso. Facciamolo dieci volte. Uno. Due. Tre. Trovate il vostro tempo. Quattro. Inspiro. Rilassate il respiro. Un respiro normale, non esagerate con il respiro. Sei. Sette. Ammorbidite anche il respiro. Rallentate l'uscita dell'aria. Sette. Otto. Lentamente ancora. Nove. Inspiro. Ed esce questa N. E dieci. Ottimo. Cambiamo la narice. Andiamo a lavorare sull'altra. Vado a tappare la narice. Sicuramente sentirete un suono diverso. Potrebbe essere più bloccata. Potrebbe essere più libera. Non importa. Cerchiamo di equilibrare le due narici nel tempo. Voi ammorbidite sempre il respiro. Rimanete in una posizione comoda. E lasciate fluire l'aria attraverso questa parete del naso. Fino ad arrivare proprio a questo punto. E sentite vibrare tutto dall'ossicino alla base. Pronti? Via. Inspiro. Ed espiro. Uno. Inspiro. Due. Lascio scivolare la N. Cercate di sentire anche l'ossicino che vibra. Tre. Quest'osso qui in cima è l'unico riferimento di partenza del nostro suono. Quattro. Rilassate le spalle. Rilassate le spalle. Lavoriamo bene con il diaframma rilassato. Cinque. Spiro. Inspiro. Spiro. Cerchiamo di allungare l'espirazione. Sei. Sette. Sento il respiro che arriva fino in fondo. E poi il suono parte dalle narici. Otto. E ancora. Nove. E ultimo. Dieci. Bravissimi. Ora se volete potete giocare con le note. Quindi dalla nota più comoda a salire glissando. Quindi portando questa nota nella nota più alta. E poi scendere come una specie di sirena. Prima con una narice e poi con l'altra. E se volete poi alla fine dell'esercizio provate con entrambe le narici aperte. E vedete se la vostra voce effettivamente si è posizionata in un posto più alto. Più comodo e più leggero. Finiamo questo percorso di esercizi con l'articolazione delle consonanti. Come lo faremo? Molto semplice. Terremo i denti stretti. Senza esagerare. Perché non dobbiamo sentire dolore nella mandibola. E non dobbiamo soprattutto stringere proprio per creare altre tensioni nel collo. Quindi è una posizione a denti stretti ma al contempo rilassata. Quindi immaginate di avere una specie di foglietto tra i denti. Che non dovete schiacciare. Ma li dovete comunque tenere chiusi nella posizione di chiusura naturale della vostra bocca. E in questa posizione. Tenendo conto sempre del nostro collo rilassato. Del nostro filo che ci sostiene. E di questa posizione molto agevolativa per la nostra voce. E per il nostro respiro. Andiamo a fare delle consonanti. Bene. Partiamo con le labiali. Quindi mi me ma mo mo. Ma tenendo i denti in questa posizione. Quindi riandiamo a scaldare le nostre labbra. Mi me ma mo mo. Mi me ma mo mo. Cerchiamo di tenere i denti non stretti ma chiusi. Quindi cerchiamo di lavorare molto sulla pronuncia delle consonanti. Per dieci volte. Pronti? Via. Mi me ma mo mo. Mi me ma mo mo. Una nota morbida. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Perfetto. Via subito con la V. Quindi vive, va, va, va. Sempre con i denti chiusi. Pronti? Via. Vive, va, 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 va. Vive, va, 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 va. Cinque. Sei. Otto. E dieci. Benissimo. Andiamo dentro a lavorare con la lingua. Quindi andiamo a cominciare a sciogliere la lingua con li, le, la, lo, lu. Quindi L. Pronti? Via. Via. Li, le, la, lo, lu. Li, le, la, lo, lu. Li, le, la, lo, lu. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Bravissimi. Avete visto che si lavorava anche con le labbra per forza. Se si voleva definire la L, si andava a lavorare sulle vocali anche attraverso la dimensione delle labbra. Andiamo avanti con ti, te, ta, to, tu. Quindi la T. Pronti? Via. Ti, te, ta, to, tu. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Resistete. Non stringete i denti. E dieci. Benissimo. Ora chiudiamo questa sessione con delle consonanti gutturali. Così andiamo a lavorare un po' su tutta la lingua. Quindi K, 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 Q. Sempre con i denti stretti. Lavoriamo bene sulla parte in fondo della lingua che va a battere sul palato duro e scende sempre in modo elastico e tonico. Non stringiamo i denti. Pronti? Via. K, 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 Q. Due. Tre. Quattro. Tenete la postura. Sei. Sette. Otto. Nove. E dieci. Perfetto. Siete belli pronti. Se avete fatto tutti e tre gli step degli esercizi che abbiamo visto insieme, quindi il lavoro sulle labbra, il lavoro sul suono e adesso il movimento della lingua, potete andare tranquillamente ad affrontare la vostra giornata parlando in modo bello libero e sicuro. Ovviamente questi esercizi li potete sfruttare con altre, con le parole per esempio, potete dire delle frasi, potete leggere dei libri, degli articoli cercando di rilassare. Adesso che avete tenuto molto, diciamo, i denti stretti potete strecciare leggermente la mandibola facendo dei massaggi laterali in questa zona senza sbadigliare in modo esagerato e dovreste sentirvi belli morbidi. Se avete stretto troppo invece sentirete leggermente indolenzita questa parte, quindi mi raccomando fate un bel massaggio e poi ricominciate a parlare tranquillamente in modo sereno. Fatemi sapere se vi sono piaciuti questi esercizi, se vi sono stati utili e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi ora al mio canale YouTube e mi raccomando di attivare la campanella delle notifiche. Spero di incontrarti presto all'interno dei nostri corsi e ricorda, non vedo l'ora che tu scopra la voce del tuo successo. Ciao!